Europa Donna da oggi può contare sull'azione concreta di ben 18 parlamentari. Insieme formate una nuova squadra che si chiama Europa Donna Parlamento. Di che cosa si tratta e quali sono gli obiettivi che avete? Allora mi piace che si parli di squadra perché in realtà abbiamo proprio con questa alleanza unito due poli importanti. Le donne, innanzitutto donne, le donne che stanno dentro le istituzioni e che quindi organizzano e gestiscono la sanità pubblica e dall'altra le donne, le donne e le pazienti che hanno a che fare con un tumore al seno. Quindi noi siamo una rete di 170 associazioni, rappresentiamo una quantità di donne che sono circa 53 mila ogni anno che si ammalano di tumore al seno e quindi insieme portiamo sul tavolo di chi deve decidere le informazioni e i bisogni di queste donne e insieme troviamo delle soluzioni. Ovviamente il percorso è fatto anche con i medici, con i clinici che fanno parte del nostro comitato tecnico scientifico. Abbiamo grandi programmi, tanto è stato fatto ma ancora moltissimo c'è da fare e quindi crediamo che insieme si possa proseguire. In Italia vivono oltre 37 mila donne con una diagnosi di tumore al seno metastatico, un numero in crescita e che evidenzia i grandi passi avanti fatti dalla ricerca medico-scientifica. Uno dei punti programmatici del manifesto di Europa Donna Parlamento riguarda proprio loro con l'impegno a migliorare la gestione delle pazienti con i carcinomi più difficili da trattare come sono appunto quelli metastatici. Senatrice, da poco è stata istituita la giornata per il tumore al seno metastatico che è un'importante conquista perché fino ad ora in realtà le donne che soffrono di tumore metastatico diciamo erano un po' considerate arrivate in qualche modo, senza chance. Invece perché è così importante aver istituito una giornata dedicata al tumore metastatico? Guardate, questo è davvero un altro traguardo raggiunto da Europa Donna perché so che anche già dalla precedente legislatura se ne era parlato. Io stessa, come avevo detto, ho presentato una proposta di legge che è in Senato ma la giornata finalmente è già stata istituita l'anno scorso. Questo perché? Perché davvero c'è anche qui una disinformazione. Le donne operate al seno e quindi dal punto di vista metastatico non è detto che devono essere abbandonate per la loro strada, anzi hanno ancora più bisogno di avere un percorso guidato perché attraverso la volontà appunto delle persone, tante donne vengono operate anche due o tre volte ma non meno non hanno la volontà di poter migliorare le loro condizioni di vita e perché no anche raggiungere una guarigione. Quindi non abbandoniamo per la strada chi purtroppo ha un tumore metastatico, anzi diamo ancora più diciamo seguito a queste necessità. Ho conosciuto tante donne che avevano questa diciamo questa patologia con una grande volontà noi dobbiamo aiutarle. Un altro tema su cui da tempo gli oncologi si battono è quello dell'accesso ai test genomici per le donne con un tumore al seno di tipo ormonale in fase iniziale. Test che consentono di capire quando la chemioterapia è necessaria e quando può essere evitata risparmiando tossicità e costi. Dopo mesi di attesa finalmente è stato firmato il decreto attuativo che sblocca i 20 milioni di euro stanziati a dicembre 2020 dalla legge di bilancio per rendere gratuiti questi esami. Come fosse voi vi state battendo insieme ad altri perché sia attivi davvero in concreto la possibilità per le donne di avere accesso ai test genomici per il tumore mammario. A che punto siamo? Siamo che il decreto attuativo sia pure con grande ritardo. Circa sette mesi è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale e adesso si apre la difficoltà delle procedure che si svolgeranno a livello regionale. Quindi ancora più di sette mesi dall'approvazione della legge finanziaria, della legge di bilancio non ci siamo. Siamo molto molto preoccupati, siamo molto molto infastiditi perché questo non è giusto. Ci sono donne, molte donne, è stato calcolato circa 30 donne al giorno che ne hanno bisogno di questi test che o se le pagano direttamente, quelle che non possono vengono sottoposte alla chemioterapia. Invece a volte la chemioterapia potrebbe non essere necessaria. Quando è che non è necessaria? In circa il 50% dei casi delle donne che vengono sottoposte al test, la chemioterapia e il test stesso dà dei risultati di rappresentazione genomica dello specifico tumore che consente di evitare la chemioterapia. Questo mi sembra un risultato veramente straordinario con tutto quello che è la chemioterapia. purtroppo comporta, pensate, a parte gli effetti acuti della chemioterapia e gli effetti collaterali, ma soprattutto in tante donne giovani la impossibilità poi di procreare, quindi l'infertilità, la menopausa precoce con tutti i disturbi organici che comporta. Quindi bisogna assolutamente fare in modo che queste donne abbiano la possibilità di avere i test gratuiti, cosa che succede peraltro in tutti i paesi occidentali più sviluppati d'Europa. Europa Dona Parlamento è già operativa. Infatti si è riunita a giugno e ha avviato nelle scorse settimane alcune iniziative, tra cui un emendamento al decreto sostegni bis per l'istituzione presso il Ministero della Salute e della cabina di regia sulla senologia e sulla oncofertilità. Ma le iniziative delle varie parlamentari che fanno parte della squadra di Europa Dona Parlamento sono davvero tante. Ci racconta, visto che siete già di fatto operativi, i tre progetti, tre azioni che avete già iniziato a concretizzare? Uno per esempio è quello di completare un decreto che è nato nel 2014 e che è una risoluzione europea che noi di Europa Dona abbiamo portato dall'Europa in Italia che riguarda i centri di senologia multidisciplinare. Lì sono regolamentati perché ogni 250.000 abitanti ce ne deve essere uno che ha tutto quello che serve a 360 gradi per una donna per essere curata perfettamente. C'è il 18% in più di possibilità di sopravvivenza in questi centri, quindi per noi è vitale. E quindi c'è un decreto, ma sappiamo che l'applicazione è regionale e quindi il nostro percorso iniziale è proprio quello di incominciare ad andare a seguire gli assessorati regionali affinché applichino la legge centrale. Questo è il primo. Il secondo è la mammografia o gli screening mammografici che sappiamo hanno avuto in questo momento una grande battuta di arresto. Perciò questo è l'altro punto molto importante su cui tutte quante insieme, stamattina abbiamo trovato molta adesione, faremo delle cose molto importanti per le donne. Allora buon lavoro a tutte voi, grazie. Grazie infinite, grazie.